Quanto costa il cibo italiano a Los Angeles? Pan di stelle è 10 dollari, greve regà Tutte le cose della Molino Bianco stanno a 6 dollari Oh vabbè sì, piammasi un po' dei taralli, fammi vedere Dai 5 euro sti taralli Quelli più grandi invece stanno a 8 dollari Le marmellate varie stanno tra gli 8 dollari e 12 dollari Vabbè ovviamente dobbiamo vedere anche il caffè che sta a 16 dollari Tutti gli oli stanno dai 20 ai 40 dollari Vabbè 12 dollari il pesto genovese La pasta di pomodoro 5 dollari Vabbè il parmigiano reggiano manco guardo, cioè 50 dollari La pasta sta sui 6 dollari, 11 dollari, 8 dollari e 50 Dipende da quale volete Queste fragole se le vuole paghi 15 dollari La frutta e la verdura ha dei prezzi allucinanti La mozzarella sta sugli 11 dollari Però vi dico la verità, pensavo molto di più Pizza margherita 20 dollari La carbonara 26 Anche l'insalata di tonno 20 dollari Prosciutto e mozzarella 25 Vabbè regà i vini neanche ve lo dico Ho preso una pizza margherita per pranzo E sono rimasto anche soddisfatto, non era male E sono rimasto anche soddisfatto